salve siete pronti per un altro eccitantissimo anno insieme? io sono pronto voi siete pronti? no 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 vai dall'inizio praticamente spesso ricevo lettere mi contattano gente che sembra così a parole rivoluzionari e tutto quanto però mi fa ridere perché non c'è foto né nome né niente no vediamo un esempio per esempio questo qua che non dirò il nome anche perché non c'ha un nome ha messo un nome lì così ma chissà se è il suo vero nome non c'ha faccia non c'è niente e io faccio questo video non per così tipo mettere in cattiva luce qualcun'altro ma semplicemente per far capire questo concetto che magari devo spiegare un po' meglio il concetto è che siamo tutti nella loro lista cioè se tu non fai parte di quelle poche famiglie che controllano questo mondo stai sicuro anche se sei un massone per dire no una volta che ti hanno usato faranno fuori anche te che cazzo vorrei fare quando hanno fatto sparire tutti quindi questo video per far capire che siamo tutti al 99.9999 per cento nella lista tutti e quindi ci conviene ci converrebbe parlare adesso che abbiamo la possibilità di farlo ancora però secondo me il fatto che loro ci lasciano parlare significa che già sanno che noi siamo morti siamo morti quindi ci lasciano non servono veramente niente ma siccome poi come ho detto anche lui qua lui le chissà che cazzo è questa persona che mi contattano mi dicono che ah che belli i tuoi video eccetera eccetera però poi ecco vediamo un esempio questo qua che ho tolto il nome qui mi ha contattato su facebook ieri e ci abbiamo parlato un po' lui vive forse non dovrei dirlo ma anche si vive insomma vicino la cina diciamo molto vicino la cina e quindi sa quello che aspetta il resto di noi la cina è molto più vicina e ad un certo punto io gli chiedo a lui insomma quando ti sei svegliato diciamo e ovviamente questi che a parole sono grandi rivoluzionari ah solo fisicamente l'età vabbè un'altra cosa poi qui mi risponde io non ho mai dormito ma i coglioni a me ho fatto ride subito perché insomma uno che insomma avevo voluto approfondire diamogli il beneficio del dubbio magari abbiamo a che fare con nio qua come ho scritto qua sei nio ti stavamo aspettando subito mi voleva insegnare che nio lascialo nella mente dei fratelli poi sorelle vaccioschi ok quindi sei un vero duro ho detto e io e io ho scritto ma tu cosa fai per cambiare il mondo diciamo stupido come come domanda cambiare il mondo insomma cosa fai di giusto questo avrei voluto dire a lui no quali sono i frutti perché nella bibbia per esempio c'è scritto che tu devi vedere i frutti di una persona per dire no quando uno a parole può dire tante cose però tu devi vedere i frutti cosa hai dietro that you can back up you know what you're saying cosa puoi con che cosa puoi dimostrare che hai lavorato che hai fatto qualcosa no quali sono le tue non credenziali però il frutto del tuo lavoro dove sta oltre a parlare io ho scritto ai ai canali youtube roba simile stiamo parlando questo c'è possibile fare a noi schiavi giusto parlare su youtube azioni poi non ne parliamo perché siamo troppo mosci morti diciamo me compreso io ho fatto un video dove praticamente dicevo che la cosa giusta da fare c'è secondo me dopo il 2020 ma anche prima se tu sei vivo in quest'epoca stai succhiando cazzi tutti per sopravvivere in questa merda stiamo stiamo barattando la l'onore la giustizia il tutto per continuare a vivere in questa merda no e per farlo dobbiamo completamente umiliarci tutti quanti me compreso tutti è la cosa giusta da fare dicevo nel video che poi ho tagliato totalmente perché era troppo negativo non so perché l'ho tagliato avrei potuto comettere lo stesso in quel video dove parlavo in inglese sotto casa qua la cosa giusta da fare infatti nel video dico così traduco anche per quelli che mi hanno visto non ho capito il video che era in inglese la cosa giusta da fare fai te stesso fai quello che senti che è giusto che sia per dire vai in giro io neanche per esempio sono per andare a protestare nel nel supermercato che te fa più magnano se non metti una museruola perché è come se tipo volessi il loro veleno che in supermercati vendono solo veleno è una forma ridotta del del vino loro ci hanno bombardato e avvelenato già prima del vino con quelli che chiamavano supermercati infatti nei supermercati chi prendeva la licenza per venderti cibo nel solo coloro che avvelenano il cibo no il veleno è approvato dagli esperti che che dicono sì questa merda qua lo puoi mangiare buona ti fa benissimo and then you wonder why they are so fucking dumb quindi che stava che stava di telecamera logitech poi puoi per favore aiutarmi questa è la tecnologia questa è la solitudine che dobbiamo che ti becchi appena cominci a dire la verità le frustate cominciano subito prima delle frustate fisiche cominciano le frustate l'allontamento spirituale non hai più spiritualmente sei in una gabbia nessuno vuole parlarti nessuno e poi arriverà anche la frustata se fai veramente quello che dovresti fare in questo mondo dopo il 2020 che semplicemente andare lì e dire che sede dei mostri ti mettono dentro fanno quelle fatte ammazzano però almeno non continui a succhiare i cazzi perché i cazzi li stai succhiando io tu dopo il 2020 se qualcuno non ha fatto qualcosa per uscire da questa merda sta succhiando cazzi tutti noi stiamo succhiando cazzi e io lo dico così in questo linguaggio così perché magari forse vi entra in testa che state lì con la faccia tutta pieno di sperma in faccia vi stanno umiliando ci stanno umiliando e non facciamo un cazzo e anche io per dire il fatto di fare video no è perché tu hai la speranza che qualcuno ti segua con questo ragionario quando capisci bene che se fai quello che è giusto finisci come ho fatto vedere nell'altro video in croce poche persone hanno fatto sta cosa qua e finisci come gesù cristo in croce perché questi mostri non vogliono sentire la verità questi sono mostri e infatti anche in altri video ho detto che non c'è niente da dire c'è solo da fare vai vai c'è una croce che ti aspetta se non vuoi perdere la come si dice se non vuoi essere se non vuoi continuare ad essere umiliato in questa merda vai c'è la croce che ti aspetta quella è la cosa giusta da fare dire quello che pensi altrimenti continuare ad accettare e cercare di vivere in questa merda e accettare di succhiare cazzi ma come fa questo prima parlare di gesù poi dire succhiare cazzi questi sono i prodotti del 2022 2022 devo ricordare siamo al 2022 bellissimo 2022 chi l'avrebbe mai detto che saremmo arrivati così lontani noi schiavi quindi continuiamo con la nostra bellissima presentazione lui mi dice non ho nulla e ho iniziato a provare a fare capire concetti basilari a molti prima che esistesse internet lui mi ha detto che aveva tipo 30 anni ora io so che internet è partito all'inizio degli anni 90 già c'erano una specie di internet poi 96 97 ufficialmente però anche prima c'era internet in america specialmente io non so ma facendo due calcoli tu prima che esistesse internet forse non era non eri nemmeno uno spermato zoo quindi già mi sta dicendo cazzate ero molto giovane sia uno spermato zoo e ho provato per anni a livello diretto quindi mi dispiace ma non riesco a mettermi pensando dopo aver fallito direttamente per anni di poterlo fare nell'era della confusione più totale diciamo che io sono uno spettatore e che si diverte si a vedere un film di cui ha sempre saputo la trama e la fine ok spero tanto che non esca al suo nome ok poi ad un certo punto io gli dico che ma guarda che io sono anni che non mi importa a me il risultato cioè io faccio questi video perché perché ritengo siano giusto giusto ritengo che sia giusto farli ma no perché mi aspetto che il mondo cambia e cazziclare cioè quello che individualmente ognuno di noi può fare fare la propria parte più di tanto non puoi fare non sei dio che poi niente poi se noi individualmente ognuno di noi fai fa quello che è giusto il risultato di tante persone che fanno la cosa giusta è un mondo migliore ma oggi siccome sono tanti a fare a prendere i soldi e fa la cosa sbagliata che viene più comodo il risultato è che stai per essere ed è tutto così in faccia però la gente continua a fare il male no chi viene più comodo ma io voglio viaggiare ti dicono i dementi che schifo e io gli ho detto quindi guarda i miei video sono arrivati a 20 views come media che ho adesso 20 views è qualcosa di impensabile il mio canale ha sempre avuto proprio 5 views e lui mi ha detto sì che io non è importante basta che siano 20 che contano vabbè vabbè e io il blu è il mio quindi ma sono un po come c'è questa gente che mi vede i miei video sono sciapi non c'è sostanza nel senso che dopo che tu hai appreso un messaggio dovresti tipo anche agire su quella informazione che ha preso ma questi spesso neanche commentano neanche vedono come zombie non nemmeno commenta io mi so ho dato la mia vita facendo il video proprio in albanese si direbbe cioè ti lasciamo parte cioè mi so spaccato in due per fare il video e tutto quanto e tu nemmeno un cazzo di commento scrivi cioè ho detto qualcosa per mezz'ora ho parlato di qualcosa no niente e infatti io gli scrivo sono sono un po come te non voglio fare niente solo vedere con i popcorn in mano senza nome senza faccia ma il tuo canale mostra uno spaccato fantastico da vedere poi io gli dico e ma tu sei nio no sei nato sveglio ha detto no che è nato sveglio dovresti fare meglio di me ma non lo fai cioè perché non c'hai un canale dove parli queste cose invece di chi siamo noi per dire chi fa di più io vedo i frutti amico io vedo i frutti quali sono i tuoi frutti io ti ho chiesto hai un canale youtube hai scritto un libro che cazzo ne so hai fatto qualcosa di tangibile che io che può provare che sei uno svegliato da sempre no e io faccio vedere lui perché come lui sa quante volte mi hanno contattato io ricevo tante lettere io a continuare io a un certo punto siccome non mi andava davanti io ho scritto di nuovo no nome no foto quindi parla parla ma non c'hai né nome perché anche qui su facebook non c'aveva nemmeno nome e nemmeno foto parli di me no parlo di sto cazzo nio è arrivato nio si sai quanti ne ho visti come te io non ho tempo da perdere o facciamo qualcosa pubblicamente con un video o di perdere tempo non mi va fidati che tu come me non ne hai mai visti nessuno come me se vuoi fare due chiacchiere con me e vedermi zero problemi di pubblico non faccio nulla non perdere tempo se non hai tempo tranquillo parliamo quando vorrei fare qualcosa pubblicamente a me di piangerci addosso in privato non mi va e comunque mettere nome e cognome e foto su un social non qualifica nessuno io ho scritto qua non è tempo di chattare a me sta parlando infatti questo è un video così uno stupido non può mai vedere un video così lungo e quindi il messaggio non gli arriverà però vorrei che chiunque così vedesse i miei video non mi contattasse se non ha intenzione di fare qualcosa come per esempio hanno fatto con me qualcosa Amerigo quando gli ho detto di fare qualcosa lui l'ha fatto non è che ho obbedito però quando gli ho detto di fare qualcosa fare qualcosa io intendo qualcosa per uscire da questa merda qualche video almeno parlare non dico di andare a far scoppiare qualcosa però almeno di parlare che poi non sono nemmeno per scoppiare cose Amerigo Francesco Sani Iuvia anche Iuvia ha avuto le palle di metterci la faccia poi chi altro ha fatto qualcosa con me questi tre cioè in anni dal io ho cominciato con YouTube dal 2009 tutti questi anni ho sempre cercato di mettermi in contatto con persone per fare video queste sono le tre persone anche Daniela anche se purtroppo alla fine è finito male con Daniela e ha fatto qualcosa e poi ultimamente anche Alice però insomma questi li metto su un'altra categoria perché ancora non hanno le palle di dire chi sono metterci la faccia e loro possono dire quello che cazzo gli pare ma a me non mi bla 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 no devi metterci la faccia devi mettere il nome col cognome così fai vedere ai mostri perché non si rischia niente come ho detto siamo tutti nella loro lista lista nel senso lista dei nomi che vogliono far fuori in questa lista dei nomi che vogliono far fuori c'è tutta l'umanità piano piano loro saranno serviti dai robot e quindi almeno prima di andarcene vogliamo fare qualcosa che cazzo non so volete far uscire un minimo di umanità se ce l'avete ancora dentro ma io non ne vedo più di umanità purtroppo tranne me ovviamente quanto come umano purtroppo però parlare e socializzare è prerogativo quindi io ho detto non mi vado a parlare e sentire tu cazzate la tua vita privata io voglio qualcuno che faccia qualcosa perché stiamo nel cazzo di titanic tu non mi puoi parlare di tua zia di tua nonna di la tua vita non me ne frega un cazzo cioè non è tempo per chattare io ho scritto no qui in alto non è più tempo di chattare il cazzo di titanic sta affondando vogliamo fare qualcosa prendere una scialuppa per salvarci o dobbiamo ancora qui lucidare le come dicono pulire insomma mettere in ordine le sedie qua nel titanic senza dialogo non nascono piani ben realizzati ma che piani infatti io ho scritto non c'è nessun piano perché io ho scritto infatti poi ancora più duro noi siamo già morti io faccio fino alla fine della mia vita quello che penso sia giusto fare non me ne frega niente di vincere o perdere perché dobbiamo capire ragazzi logitech scusa non c'è nessuno dobbiamo capire logitech che si ci siamo stiamo registrando perché ho scritto non c'è non c'è nessun piano da fare perché il nemico è il male talmente tanto nel mondo che se noi ci organizziamo il male sta già dentro e tu non puoi organizzare perché effettivamente uno dice sì sarebbe meglio per noi se ci organizzassimo come sono organizzati loro loro lì in alto il male è coparsene uno di loro loro ovviamente possono fare questa cosa qua perché il male domina in questo mondo e tu basta che paghi qualcuno e lui ti farà il male senza problemi se non lo fa lui lo fa un altro subito sostituisci senza problemi quindi per questo loro a loro sì conviene organizzare tutto questo male tutto questo potenziale e lo organizzano senza problemi ma noi appena noi creiamo un gruppo o un qualcosa il male sta già dentro perché il male come ho detto fa parte dell'uomo gli viene più naturale fare il male e quindi l'unica cosa che possiamo fare noi quei pochi che vorrebbero fare la cosa giusta è semplicemente noi dobbiamo tipo combattere isolati non puoi fare gruppo perché c'è subito il male lì è facilmente attaccabile e quindi nessun piano che piano vuoi fare tu devi fare quello che è giusto poi il risultato di te facendo quello che è giusto nel senso che quando qualcuno ti dice oh c'è il virus e tu stai ammazzando miliardi di persone no vaffanculo testa di cazzo dici questo continui a dirlo loro ti buttano a merda tutti i giorni e tu gliela ributti indietro per quello che puoi giornalmente fare fisicamente umanamente possibile fare lo fai ecco per dire un piano per me per esempio invece che parlare da solo come un coglione con la logite qui che lo guardo pure in faccia questa cosa fredda qua sarebbe bellissimo poter parlare con qualcuno fare video tipo a me io adoro per dire parlare con qualcuno su zoom e poi pubblicare questo cazzo di video online perché un conto è vedere un coglione da solo nella cameretta sua pure sdraiato così proprio uno sfigato che parla e dice queste cose qua a me non me ne frega niente perché io sono forte perché ho fatto questa cosa da anni sempre da solo ma non perché voglio stare da solo ma proprio perché a nessuno gliene è fotta un cazzo pensano che magari io faccio video per diventare famoso che cazzo ne so c'è un cazzo di altro motivo io non vendo un cazzo non vedo libri non ho i libri qua dietro come background come molti dei clown hanno che voi seguite sarebbe bellissimo ma neanche quello si può fare neanche quello si può fare tipo unire qualcuno un gruppo di persone porca troia abbiamo il cazzo di tecnologia adesso che io ho una connessione lentissima qua e zoom funziona benissimo ci posso parlare con gente voi avete i telefoni che vi mandano 100 mega al secondo porca troia e che cazzo fate andate su cazzo di telegram a perdetempo a quei clown controllati che aspetta adesso prendiamo in giro un po' Alice Vivi adesso mette tipo etichette dove c'è scritto i vaccini fanno male e vanno nei supermercati li attaccano nei cazzo di prodotti e così vanno via ma scusa ma demente vuoi parlare con le persone che sia sta cosa che ho fatto il mio lavoro senza faccia senza nome senza la convinzione di avere il coraggio di dire a quelle persone questo è ingiusto quello che stanno facendo e parli ci metti la faccia come demente mettono l'etichetta come coglioni e se ne vanno ma che cazzo sta da fare dementi e questi sono i coglioni rivoluzionari che vanno oggi i dementi che li seguono morti come quei coglioni la che andavano con in UK c'erano questi dementi con lo schermo qui in alto ci sono dementi ci sono presenti per dire quelli che devono sponsorizzare un bar o un locale per dire vanno lì tipo vestiti da hamburger o vestiti da che cazzo ne so così ti vendono questi qua facevano la stessa cosa per lo stato e quindi gli avevano messo uno schermo così in testa qua alto così loro lo reggevano con una speglia di spalliera così qua legato tipo zaino e questi dementi andavano in giro con questo schermo che diceva il virus uccide quindi vatta a vaccinare va a morire pecora e è praticamente è lo stesso concetto cioè non c'è un qualcuno che magari ti parla così di persona non che in questo caso perché in questo caso posso capire che sono freddi perché stanno a vendere la morte e quindi non non si mettono nemmeno tipo a dialogare con le persone parlarci magari un attimo no è tutto freddo tutto anche per dire il messaggio che arriva dalla tv loro vedono la telecamera non c'è non c'è un contatto fisico con questi dementi forse perché l'umanità di oggi non non concepisce questo mettersi insieme e parlare parlare da umani no e capire molto più del semplice messaggio freddo unidirezionale che ti arriva dallo schermo o da questa etichetta che questi altri dementi mettono e scappano come coglioni forse siamo già come ho già detto siamo già morti per questo l'unico modo di comunicare dell'uomo oggi è così con video messaggi così non c'è più un contatto umano c'è altro qua abbiamo finito abbiamo finito tu hai voluto un happy ending forse ma purtroppo non te lo posso dare questo happy ending perché infomars del questa cosa che vedi qua it's a fucking switch ciao